Le sensazioni sono molto buone, la squadra si è allenata bene, per fortuna non abbiamo avuto infortuni abbiamo fatto un buon torneo in Svizzera, anche un buon torneo nel Mamacairo e abbiamo finito la ultima partita, ieri con la prima squadra, con quelli che non hanno giocato lunedì e per fortuna siamo nel cammino giusto per arrivare a una partita che è importante perché dicono che il Sassuolo è una squadra importante con gli obiettivi chiari per arrivare in alto perché sempre in questi ultimi anni è una squadra molto competitiva e noi dovremmo fare una partita come abbiamo fatto in questi giorni, proporre il gioco di essere protagonisti e dare l'intensità poi noi sappiamo che il Sassuolo ha più giocatori del 2003-2004 e noi con il spirito e con la voglia di vincere dobbiamo non sentire la differenza, il gap dell'età e dobbiamo fare la differenza secondo me al livello animico la differenza esistirà con le altre squadre, però nell'animico noi dobbiamo essere molto forti e secondo me lo più importante è al livello umano poi se sei bravo come calciatore ben venga, però lo più importante è essere una brava persona e creare gruppo questo l'ho visto, sono predisposti a lavorare, sanno dove sono, sanno quali sono gli obiettivi sono un passo, se Dio vuole, di passare alla prima squadra, devono essere consapevoli e noi cerchiamo di farli capire che loro sono a quel passo lì che facendo bene durante tutto il campionato gli hanno la fortuna di avere la Youth League